Boutique, diversi souvenir, cartoline, libri antichi, libri nuovi, stufa, il bagno delle donne, poster come vedete il pavimento è stato fatto di legno e su diverse su diverse spessori per dare una dinamicità al pavimento e per rendere un po la sensazione della instabilità del ghiaccio questa è la reception